La collaborazione è sospesa. Samsung ha annunciato di volere vederci chiaro sulle accuse di sfruttamento del lavoro minorile lanciate al fornitore cinese Xinjiang Electronics a Dongguan. È l'associazione China Labor Watch a scoperchiare il caso relativo ad almeno 5 lavoratori, dopo che in passato la stessa Samsung era stata segnalata per controlli inadeguati negli stabilimenti cinesi. Le aziende rifornitrici del gigante di elettronica, secondo il rapporto pubblicato da China Labor Watch, possono facilmente assumere lavoratori di età inferiore a 16 anni. Samsung ha più volte dichiarato tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile.